Il progetto delle W Series, campionato di Formula 3 interamente al femminile promosso dagli ex piloti di Formula 1, David Coulthard ed Alex Wurz, prende forma. Annunciati infatti i nomi delle 28 ragazze selezionate per partecipare all'ultima fase, che include un test in programma a marzo, al volante della Tatous F318, vettura che sarà poi utilizzata in campionato. La prova avrà luogo ad Almeria, nel sud della Spagna, prima che venga confermata la griglia finale di 18 pilote selezionate più due riserve. Dal 4 maggio prossimo ad Hockenheim si sfideranno per conquistare il primo titolo della categoria collegata al campionato turismo tedesco e definire chi sarà la donna più veloce.